Attraenti ma false, apparentemente capaci di rispondere alle nostre solitudini, ai nostri bisogni e invece sono speranze vuote. Questi gli idoli descritti da Papa Francesco nella Catechesi dell'Udianza Generale in Aula Polo VI dedicata alla speranza cristiana. Il Pontefice, commentando il Salmo 115, è evidenziato come la fede sia fidarsi di Dio anche nei momenti di fragilità, di insicurezza, momenti nei quali l'uomo invece viene tentato da false ideologie che promettono di cambiare la realtà a nostro piacimento. In quei momenti si cercano alleanze con i potenti, le sicurezze del denaro, si cerca la mondanità. Attenzione poi ai veggenti che leggono le carte e che dietro il pagamento di una somma assicurano la soluzione di tutti i problemi. La vera speranza, ribadito il Papa, è solo quella di Gesù che gratuitamente ha dato la vita per noi. Le ideologie con la loro pretessa di assoluto, le ricchezze, e questo è un grande idolo, il potere, il successo, la vanità, con la loro illusione di eternità e di onnipotenza, valori come la bellezza fisica e la salute, quando diventano idoli a cui sacrificare ogni cosa, sono tutte realtà che confondono la mente e il cuore e invece di favorire la vita conducono alla morte. Un idolo è anche la bellezza fisica, aggiuntò Francesco, raccontando l'episodio di una donna affascinante che scelse di abortire per non rovinare la sua figura, una cosa che fa dolore all'anima. Affidarsi agli idoli vuol dire diventare immagini vuote con mani che non toccano, piedi che non camminano, bocche che non possono parlare. Si diventa incapace di amare, capita anche nella chiesa, con il rischio di mondanizzazione. Ecco la stupenda realtà della speranza, ha concluso il Papa, confidando nel Signore si diventa come lui. La sua benedizione ci trasforma in suoi figli che condividono la sua vita. Dopo i saluti, Francesco ha messo in guardia da chi truffa vendendo biglietti per l'udienza generale.